Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura ci occupiamo della riqualificazione del sito di Bussi sul Tirino perché il forum abruzzese dell'acqua ha presentato, esposte alle procure di Pescara, all'Aquila, al CSM e anche all'autorità anticorruzione relativamente all'accordo di programma proprio per la riqualificazione del sito inquinato di Bussi sul Tirino. Gli ambientalisti ritengono necessaria la bonifica e contrastano la cessione al comune delle aree. Ascoltiamo il servizio di Paolo Renzetti con l'intervista ad Augusto De Santis. De Santis, si parla della reindustrializzazione della zona di Bussi e a proposito di questo voi avete fatto degli esposti alla Procura della Repubblica di Pescara, dell'Aquila e anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Perché? Anche all'autorità anticorruzione. Perché si va verso un accordo di programma che è una follia, è un vero e proprio pacco per i cittadini perché l'area industriale diventerebbe pubblica, cioè uno dei siti più inquinati al mondo da una multinazionale che è Solvè passerebbe alla proprietà del comune di Bussi, un comune di 2.500 abitanti e cioè i veleni diventano pubblici. Infatti l'accordo prevede che l'area, una parte dell'area interna, l'area industriale, venga coperta da cemento. Cioè sostanzialmente i veleni diventati pubblici, poi vengono anche tombati. E sopra ci si costruirebbe una fabbrica di un'azienda del nord che verrebbe di un ex senatore leghista che verrebbe a investire qui. Ora, dall'altro lato, non si tocca la mega discarica di Bussi. È fuori dall'accordo di programma. Infine, nell'esposto abbiamo evidenziato anche una posizione di possibile conflitto di interessi del direttore generale del Ministero dell'Ambiente, Gaia Checucci, che fine a pochi mesi fa era nel Consiglio di Amministrazione in una società privata riconducibile al gruppo Suez, la quale collabora in varie parti del mondo, compresa l'Italia, con Solvay, che è uno degli attori del sito di Bussi. E adesso ci spostiamo ad Ortona per occuparci ancora del masterplan. Sono più di 50 milioni di euro destinati al porto di Ortona per una serie di interventi che punteranno ad implementare il traffico commerciale presente, a spiegare i dettagli questa mattina del contenuto del masterplan in Capitaneria di Porto. Ad Ortona è stato il consigliere delegato ai trasporti, Camillo D'Alessandro, il servizio di Francesca Romana Testi. Dopo la firma congiunta del masterplan avvenuta tra il governatore D'Alfonso e il premier Renzi due giorni fa all'Aquila, ora si apre la fase esecutiva che vede declinarsi in tutte le forme l'ingente somma messa a disposizione dell'Abruzzo. Un miliardo e mezzo di euro da suddividere per tutte le esigenze del territorio e ad aprire le danze il porto di Ortona, dove il consigliere delegato ai trasporti annuncia investimenti, progetti e tempistica. Il porto di Ortona ottiene 53,6 milioni di euro per interventi diretti e per interventi indiretti di funzionamento e di collegamento al porto. Mi riferisco al completamento della bretella di collegamento autostrada-porto, alla riattivazione del binario ferroviario e poi gli interventi più cospicui per quanto riguarda proprio il porto di Ortona, oltre 40 milioni e mezzo per il prolungamento della diga sud e il completamento della diga forania e ulteriori interventi di dragaggio, dunque il completamento del sistema portuale regionale attraverso la funzione del porto di Ortona. Il porto di Ortona era stato al centro di un braccio di ferro che aveva visto la regione Abruzzo chiedere di cambiare autorità portuale inizialmente assegnata alla regione Marche per essere destinata invece a quella di Civitavecchia in nome di un ambizioso progetto di collegamento tra mare Adriatico e Tirreno. Una partita vinta e che oggi apre nuove speranze e scenari commerciali al porto abruzzese. Abbiamo vinto questa grande partita in conferenza Stato-Regioni con l'emendamento approvato. entro 60 giorni nella pubblicazione del decreto riusciremo a mettere in campo l'alleanza con Civitavecchia. A Civitavecchia abbiamo già rappresentato questi progetti e credo che veramente il secondo tempo della vita economica non solo del porto di Ortona ma dell'economia regionale passerà qui. Critiche al masterplan sono arrivate un po' da tutte le forze di opposizione. Fondi europei già disponibili dal 2014 ripresentati come nuovi con due anni di ritardo. Questa è l'opinione dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis che ha attaccato proprio sull'argomento masterplan sia il premier Matteo Renzi che il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Ascoltiamo Filippo Tronca. Masterplan per il Sud è solo fumo negli occhi. Sono solo vecchi fondi europei non utilizzati, ridotti e ora ripresentati come fossero nuovi. Parola del pugnace consigliere di opposizione del Comune dell'Aquila Giorgio De Matteis ex vicepresidente del Consiglio regionale che interviene a tre giorni dalla firma all'Aquila da parte del presidente del Consiglio Matteo Renzi in calcio all'elenco delle 77 opere pubbliche in tutto l'Abruzzo che saranno finanziate con 1,5 miliardi di euro nei prossimi anni. Tutto quasi era fritta, spiega però De Matteis sventolando un'inchiesta del quotidiano La Stampa in cui si documenta che in realtà i 35 miliardi per le opere che saranno finanziate in tutte le regioni meridionali con il masterplan sono quelli del Fondo di Sviluppo e Coesione già disponibili nel 2014 ma non utilizzati colpevolmente dal governo Renzi che nel frattempo è anche sornato 17 miliardi di euro per altre finalità. C'è stata l'altro giorno veramente una giornata imbarazzante nella quale abbiamo avuto modo di avere qui all'Aquila il Conte Mascetti d'Italia che è il premier Renzi e il Conte Mascetti d'Abruzzo che è il governatore D'Alfonso. Da entrambi abbiamo ricevuto delle parole che sono oltre che imbarazzanti anche offensive. Per quanto riguarda Renzi il cosiddetto masterplan per il Sud è una bufala clamorosa non lo dice Giorgio De Matteis lo dice un autorevolissimo organo di stampa come la Stampa di Torino che ha condotto un'inchiesta sul masterplan rilevando attraverso l'analisi condotta da numerosi economisti come questi soldi che vengono dal Fondo di Coesione Sociale siano soldi vecchi per il 75% e peraltro dal fondo complessivo di circa 58 miliardi sono stati già tolti 17 che sono stati utilizzati dal governo come Bancomat per le diverse esigenze. Quindi vuol dire che a fronte di questo abbiamo poco più di una trentina di miliardi che dovranno essere utilizzati senza sapere quando questi progetti che sono già progetti vecchi oltre che su soldi vecchi per il 75% sempre dall'inchiesta condotta dalla stampa che vengono venduti come nuovi per una campagna elettorale anche abbastanza patetica. Siamo alla cronaca un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato nella notte in mare è finito nelle reti di un peschereccio pescarese l'Indomita che si trovava all'incirca 16 miglia dalla costa e che ha lanciato l'allarme verso le 23.30 la capitaneria di Porto subito intervenuta con una motovedetta il peschereccio è stato scortato in Porto dove il cadavere quasi ridotto ad uno scheletro è stato sottoposto ad un primo esame del medico legale in base alle prime informazioni sarebbe il cadavere di un uomo di bassa statura rimasto in acqua forse anche per un anno la persona deceduta aveva addosso un pantalone dal quale si potrebbe ipotizzare che si tratti di un pescatore ma ovviamente questa è solo una prima ipotesi è un camion che trasportava rifiuti sanitari pericolosi è rimasto incastrato in mattinata nel sottopasso del Ponte della Libertà lungo la strada che costeggia il fiume l'autista, un giovane pescarese è rimasto fortunatamente illeso non ha però calcolato l'altezza del ponte ed è rimasto incastrato con la parte superiore del mezzo che si è poi inclinato a terra come vedete dalle immagini sono finiti alcuni scatoloni con i rifiuti sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico causando naturalmente essendo in centro a Pescara disagi alla circolazione e restiamo a Pescara unico porto della costa adriatica il Marina di Pescara ha ottenuto la bandiera blu come Camera di Commercio non posso esprimere che soddisfazione perché vuol dire che al Marina si sta lavorando bene perché fondamentalmente ai porti turistici viene assegnato questo riconoscimento in base all'erogazione di servizi a tutta una serie di appendici che fanno del Marina un approdo assolutamente consono a quegli standard che oggi un mercato così particolare come quello della nautica richiedono per cui siamo soddisfatti ed è indubbio che vedere sulla cartina del nostro paese l'unico emblema lì preso in Marina di Pescara la Camera di Commercio come socio unico di questa società non può che esprimere soddisfazione e soprattutto in relazione a quelli che sono gli utenti del porto turistico e che vuol dire che avranno una infrastruttura adeguata alle loro esigenze Comandante, una bella notizia per il Marina di Pescara per il porto turistico però per il litorale di Pescara c'è invece qualche problema e nella prossima estate ci saranno probabilmente dei divieti Ma noi stiamo facendo in modo stiamo cercando di lavorare di impegnarci quanto più è possibile affinché tutto questo non accada che si possa fruire dell'estate nella maniera più sicura e più disponibile per tutti L'anno scorso a proposito di struttura del Marina abbiamo anche cercato di portare uno sportello per gli utenti della Capitaneria nel Marina potremmo quindi fare anche in quella postazione uno sportello proprio per rendere maggiormente fruibili più sicuri e più pronti a dare risposte a coloro che verranno che transiteranno nel Marina di Pescara Torniamo a ieri pomeriggio quando il ministro Enrico Costa ha incontrato nella sala del Consiglio del Comune di Pescara una rappresentanza di balneatori per discutere delle novità introdotte dalla direttiva europea Volkestein che mette a gara le concessioni demaniali Ascoltiamo Garantire la prosecuzione del lavoro dei balneari che hanno investito nelle concessioni demaniali e l'obiettivo del neoministro per gli affari regionali Enrico Costa è intervenuto ieri a Pescara in un convegno organizzato dal nuovo centrodestra per tornare a parlare della direttiva Volkestein con la quale l'Europa impone la messa a gara di evidenza pubblica delle concessioni demaniali balneari Vogliamo mettere mano ad una disciplina complessiva di riordino che da molti anni manca è fondamentale affermare alcuni principi come dicevo prima e il principio essenziale è quello di rispettare quella che è la professionalità quella che è l'esperienza quelle che sono le imprese perché dietro ad ogni impresa ci sono delle scelte familiari delle scelte imprenditoriali dei percorsi delle valorizzazioni che è giusto non disperdere chiaramente noi dovremo aspettare quella che aspetteremo e valuteremo quelle che saranno le pronunce a livello europeo le richieste degli operatori del settore sono le stesse su cui si sta dibattendo da tempo riassumibili nell'impegno ad una proroga delle concessioni scadenza che consenta agli operatori di rientrare dagli investimenti economici fatti negli stabilimenti balneari abbiamo chiesto in passato agli altri suoi colleghi questa norma transitoria che consente a chi è già in essere di avere un periodo congolo per continuare a gestire l'arenile l'altra domanda è se ci sono delle regioni che si sono attivate a mettere in piedi dei regolamenti regionali in virtù di una legge dello Stato la 296 che il governo non si metta di traverso e consenta loro di poter legiferare e consentire agli operatori stessi di fare un piano sugli investimenti terza questione è impensabile che il canone che si paga in Abruzzo è simile a quello che si paga in Toscana nell'Asio o in Liguria parliamo di oltre 33 mila imprese su base nazionale oltre 600 su base regionale e parliamo di un settore che da sempre fa da traino per la creazione delle pille nazionali quindi è giusto dare regole certe e far sì che chi vuole intraprendere in questo settore sappia in quale perimetro possa agire ed ora siamo al lavoro torniamo all'Aquila dove si sta lavorando per salvare i posti di lavoro del call center del gestore telefonico H3G che sta per chiudere nel capologo di regione allora andiamo a vedere insieme il servizio continua la telenovela sul call center aquilano Globe Network che il 30 giugno rischia di perdere 234 lavoratori il motivo l'azienda H3G che lavora per conto della compagnia telefonica 3 ha annunciato che il 30 giugno firmerà la disdetta lasciando a piedi intere famiglie un incubo che non vogliono assolutamente vivere né i lavoratori né i sindacati che li stanno supportando in questa battaglia dopo la vibrante protesta di venerdì scorso nei pressi della caserma Pasquali in occasione del passaggio del Giro d'Italia di cui la 3 è sponsor nelle ultime ore è intervenuto sulla spinosa questione anche il vice presidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli a margine dell'incontro tenuto a palazzo centi tra i responsabili del call center i lavoratori e gli esponenti delle sigle sindacali un accordo tra il committente H3G e un operatore di un call center del sito aquilano capace di garantire l'occupazione delle 234 unità che a fine giugno potrebbero ricevere la lettera di licenziamento da Globe Network a causa della disdetta dell'unica commessa lavorata questa la proposta di Lolli che ha assicurato come la vertenza sia l'attenzione del governo e che si farà carico nei prossimi giorni di promuovere un tavolo per difendere tutti i lavoratori coinvolti ed ora andiamo a Teramo è stato avviato questa mattina l'università il progetto europeo repeat finanziato per 2 milioni di euro nell'ambito del programma Horizon 2020 fra le azioni Marie Curie vediamo il servizio il progetto repeat rappresenta un straordinario risultato perché è il primo risultato conseguito in tutta Europa su un progetto di ricerca che è finalizzato a rafforzare a potenziare la salute e la salute attraverso politiche di produzione e di consumi alimentari la salute attraverso scelte consapevoli da parte delle industrie produttrici ma poi anche dei consumatori per questo è assolutamente importante potenziare queste iniziative perché attraverso queste iniziative si creano le premesse non solo per fare ricerca di qualità ma anche per creare le condizioni che consentiranno al nostro territorio che consentiranno alla nostra economia di concentrarsi su produzione ad alto valore aggiunto e di creare occupazione e creare benessere è un benessere come tutela della salute è un benessere anche economico come potenziamento dello sviluppo del territorio io ringrazio l'università di Termo e le altre due università abruzzesi che si rendono protagonisti circa la progettazione e la progettazione di qualità per arrivare a questi fondi per stimolare con forza la ricerca l'innovazione e l'economia della nostra regione noi abbiamo una grandissima opportunità che sono i fondi comunitari dei prossimi sette anni 14-20 sia i fondi diretti che i fondi indiretti ringrazio il magnifico rettore per il lavoro che sta conducendo circa la realizzazione di questi progetti sono fondi assolutamente importanti consistenti attraverso progetti di qualità e noi riusciremo a dare delle risposte economiche e sociali importanti alla nostra regione si è concluso questa mattina a Chieti il progetto Cammino Sicuro pensato e dedicato ai piccoli studenti delle scuole primarie in collaborazione con la Polizia Municipale ovviamente l'obiettivo è quello di sensibilizzare ad un corretto uso delle nostre strade e a stare attenti alle regole del codice della strada allora vediamo il servizio insegnare l'importanza della sicurezza stradale delle conseguenze di una condotta irresponsabile o annebbiata dall'utilizzo di alcol e droghe a Chieti si è svolta nella splendida cornice della villa comunale l'ultima tappa del progetto Cammino Sicuro dove Polizia Municipale e piccoli studenti delle scuole primarie hanno condiviso simulazioni di guida da più punti di vista è un progetto riuscito e un obiettivo che noi vogliamo raggiungere soprattutto è quello di creare consapevolezza nei più piccoli perché siano poi utenti della strada attenti e consapevoli e poi c'è il tema importantissimo che è quello della ricerca sempre più forte della consapevolezza del danno gravissimo che provocano alcol e stupefacenti abbiamo fatto poi lezioni nelle scuole insegnando e quello è importante il comportamento del pedone il comportamento del ciclista e le regole basi dell'educazione stradale e poi abbiamo inserito anche quest'anno una piccola chicca abbiamo utilizzato degli istruttori cinofili per far vedere come deve essere l'approccio con il cane e noi attraverso i bambini vorremmo siccome sappiamo che i bambini sono i più grandi insegnanti dei propri genitori vorremmo che insegnassero ai genitori come condurre un cane quasi un paradosso se non fosse che sono proprio i bambini a vedere con semplice lucidità tutti i rischi che si corrono alla guida quando sento il suono del fischietto capisco subito di essere protetto ringrazio i vigili con tutto il cuore perché mettono cento sicurezza e zero dolore ringrazio la polizia municipale con felicità perché evitano gli incidenti nelle città seguiteli sono importanti salvano la vita è stato presentato questa mattina a Teramo il calendario degli appuntamenti dell'iniziativa FAI incontri a cura della delegazione di Teramo del FAI e dell'amministrazione comunale di Atri si tratta di sei appuntamenti pensati con la formula delle interviste pubbliche che spiazzano tra arte musica cultura sport e spettacolo il FAI insieme al comune di Atri e ad Evelina che appoggia questa iniziativa abbiamo organizzato questi eventi proprio per valorizzare gli artisti abruzzesi nel mondo e speriamo che abbiano tanto successo di più di quello che già naturalmente hanno il primo appuntamento è di Piero con Piero Mazzocchetti che è una voce meravigliosa Duccio Debona Sbei che è la campionessa di patinaggio artistico Maurizio Rolli il bassista la scrittrice Valentina di Cesare e Daniela Musini che finisce e chiude la manifestazione FAI incontri che si terrà ad Atri nel teatro comunale ci tengo a dire tutti gratuiti questi appuntamenti per le persone che decideranno di venire ad ascoltare queste interviste pubbliche e anche magari togliersi le curiosità perché ci sarà lo spazio anche per un'intervista un po' partecipata con le persone che saranno presenti quindi sarà un'occasione per conoscere anche un po' meglio più da vicino queste personalità si comincerà con Mazzocchetti come dicevo che presenterà il suo ultimo disco proprio uscito il 20 di aprile si intitola Istanti quindi parleremo con lui ascolteremo anche la sua voce e poi andremo avanti fino all'ultimo appuntamento che ci sarà l'ultimo venerdì di luglio sono sempre dei venerdì questi incontri dove appunto conosceremo Lamusini Daniel Lamusini che reciterà anche una bella situazione quindi sarà una bella sorpresa per tutte le persone che amano l'arte la letteratura e il teatro e anche D'Annunzio perché lei è proprio la madrina di D'Annunzio insomma porta avanti la sua arte l'arte di questo grande vate Apriamo la pagina dello sport calcio di Serie B in primo piano iniziamo dal Pescara per la gara di domani sera con il Latina i biancazzurri dovranno fare a meno di Lucas Torreira vittima di un risentimento muscolare a retto femorale al suo posto Bruno tornerà a Campagnaro che sostituirà il diffidato Fornasia e ci sarà Zampano che in settimana ha ricevuto il premio per essere stato inserito nella top 11 di categoria ascoltiamolo Sì mi rito anche grazie al Ministro comunque che ha creduto in me fino all'inizio dell'anno mi ha dato una mano come tutta la difesa poi essendo il mio ruolo mi dava giusti movimenti giusti posizioni del corpo quindi è un gran merito anche suo l'anno scorso dicevano bravo nella spinta ma alcune in fase difensiva penso di aver migliorato non del tutto perché ancora bisogna devo dimostrare ancora tanto però penso di aver migliorato qualcosina in fase difensiva quando ho deciso di essere di essere tutto nel pescare comunque ero molto contento sapevo della fiducia del mister che è fondamentale dell'ambiente tifosi anche come società sapevo che era una grande società e quindi non me l'aspettavo comunque che magari il Verona ritrocedesse in serie B e noi magari possiamo arrivare in serie A quindi è stata una scelta che sono stato molto contento penso che noi quest'anno stiamo facendo un gran campionato speriamo di arrivare comunque terzi venerdì sera speriamo anche che ci sia un gran pubblico che è fondamentale arrivare terzi penso che come ho sempre detto dipende tutto da noi come dice anche il mister se noi giochiamo come sappiamo giocare penso che non ci sappia nessuno come ho detto anche se comunque ci sono squadre molto attrezzate come Spezia Cesena ma anche il Bari ma tutte quante noi dobbiamo cercare sempre di allenarci bene e cercare di dare il massimo al sabato e cercare di lavorare in fondo siamo molto contenti tutti ma anche vedo rispetto all'anno scorso i tifosi sono molto compatti uniti penso che lo scorso settimana sia stato il record dei spettatori al derby contro il Lanciano e niente siamo fiduciosi abbiamo una grande voglia di arrivare in serie a di lottare su ogni pallone e di vincere ogni partita e la trasferta per quanto riguarda i tifosi del Latina è stata aperta quindi potranno arrivare a Pescara c'è tempo fino a questa sera per acquistare i biglietti mentre nella gara d'andata i tifosi del Pescara non potettero assistere alla gara di Latina passiamo al Lanciano non si arrestano le polemiche sul caso dei prossimi deferimenti dopo l'avviso di chiusura delle indagini notificato dalla Procura Federale al Club Rosso Nero si è mossa anche la Procura Generale del CONI che ha fatto ricorso contro la sentenza della Corte Federale d'Appello ieri tensione in Assemblea di Lega tra il Presidente Abodi e la numero uno della Virtus Valentina Maio Andrea Costantini Un vero e proprio caos che rende turbolente le ore precedenti l'ultima giornata di campionato di Serie B è la lotta salvezza il caso Lanciano ha lasciato strascichi anche nell'Assemblea di Lega di ieri con il botte e risposta piccato tra il Presidente Andrea Abodi e la numero uno della Virtus Lanciano Valentina Maio Abodi vuole lo slittamento delle date dei play-out per consentire alla giustizia sportiva di fare il suo corso in merito al nuovo deferimento che dovrebbe arrivare a carico della Virtus Lanciano di fronte alle resistenze della Maio la decisione è stata probabilmente solo posticipata come se non bastasse si è messa in moto nelle ultime ore anche la Procura Generale del CONI che ha fatto ricorso presso l'Alta Corte di Giustizia avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello Lanciano ma persino la Federcalcio chiamate a rispondere per quel verdetto che ha restituito ai Frentani tre punti due di questi potrebbero essere rimessi in discussione tra deferimento in arrivo e questo ricorso è chiaro che la società Frentana si sente praticamente accerchiata la partita di domani porrà i rossoneri di fronte al Livorno una gara determinante che se la Virtus dovesse perdere potrebbe comportarne la retrocessione diretta fatto che andrebbe a sgonfiare il caso se la Virtus dovesse collezionare un risultato utile con tanto di salvezza diretta o ingresso ai play-out ricorsi e deferimenti costituirebbero l'ancora di salvezza cui le retrocesse si aggrapperanno per salvare capra e cavoli il tutto mentre il club di Via Decrecchio aspetta finora vanamente di sapere che fine abbiano fatto quei treni del gol che hanno spedito il Catania in Lega Pro ma sui quali al momento nessun'altra società sembra essere salita C'è una notizia che appena arrivata in redazione si è spento Marco Pannella il leader dei radicali italiani vedete in queste immagini il conferimento a Pannella all'Università di Teramo della laurea honoris causa avvenuto a febbraio un avvenimento importante così come qualche giorno fa il 12 maggio il conferimento della cittadinanza onoraria al leader dei radicali che si è spento poco fa notizia appena battuta dalla agenzia Agi proprio un flash per dire che Marco Pannella purtroppo ci ha lasciato poi nel corso delle prossime edizioni del telegiornale saremo in grado di darvi altri dettagli e torniamo allo sport la squadra per quanto riguarda il Lanciano si sta concentrando sulla fondamentale partita di domani sera a Livorno questa mattina alle 9 seduta di allenamento poi in tarda mattinata la partenza la volta della Toscana tra i convocati anche il capitano Antonio Aquilanti che però è infortunato e non sarà della partita andiamo ad ascoltare adesso l'allenatore Primo Maragliulo che ha fiducia nel gruppo e confida nei tre punti la squadra è in salute si è allenata bene anche con con un buon entusiasmo con la con la consapevolezza che ci andiamo a giocare una gara chiaramente importantissima e che ce la dobbiamo giocare col piglio giusto perché sappiamo cosa cosa andiamo incontro sappiamo cosa andiamo a affrontare i ragazzi sono sono sicuramente pronti mi aspetto un ambiente molto 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 infuocato però noi abbiamo abbiamo una squadra dove sicuramente intanto c'è qualche giocatore non tantissimi però qualche giocatore esperto ce lo abbiamo ed è una partita dove non posso pensare che qualche mio giocatore si possa far condizionare dall'ambiente questa è una gara anzi proprio quel tipo di ambiente in certe situazioni può essere anche un grande vantaggio perché se uno se uno ha l'anima se uno ha il cuore quelle situazioni te lo fanno tirare fuori ancora con più vigore si non si può non si può non si può far finta di niente su questo è fuori di dubbio però io il mio pensiero lo conoscete perché lo ho espresso anche in altre occasioni adesso proprio in questa settimana proprio perché è l'ultima e perché ci andiamo a giocare un'annata intera credo che sia giusto che che tutto quello che c'è al di fuori se lo debba vedere chi di conseguenza nel senso che se c'è una situazione dove la società è tirata in ballo in questo momento non sono sicuro sto anche leggendo sono a contatto con i dirigenti loro stanno facendo di tutto perché la situazione passi nella maniera migliore io mi devo concentrare solo e esclusivamente sul campo sui ragazzi e come ho detto prima cercare di arrivare a questa partita nella maniera migliore e adesso siamo alla Lega Pro i rosso-blu si giocano la permanenza in Lega Pro sabato nello spareggio contro il Rimini la società dell'Aquila chiama a raccolta tutta la città il servizio di Gianmarcomenga manca davvero poco ai 180 minuti forse più importanti dell'ultimo decennio per l'Aquila Calcio ci si gioca la permanenza in Lega Pro ottenuta a fatica un quinquennio fa con molta sofferenza man mano che si avvicina sabato sta salendo la tensione tra i tifosi si spera davvero che questa volta il pubblico aquilano risponda all'appello dei fedelissimi e della società perché c'è in ballo il futuro calcistico di un'intera città e dei colori rosso-blu ma come bisogna affrontare questi spareggi? certamente l'idea del tecnico Perrone è di evitare di farsi prendere dalla frenesia di dover segnare subito consci però che al termine delle due partite l'Aquila sarà costretta ad avere dalla sua lo score definitivo pena la retrocessione serviranno come si dice in questi casi cuore caldo e mente fredda concetto ribadito pubblicamente a chiare lettere dal responsabile tecnico Carlo Susini che è intervenuto sulla stampa spiegando che l'Aquila dovrà essere equilibrata senza esporre troppo il fianco all'avversario per la formazione salgono le quotazioni del giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini il più vivo lì davanti dove si fatica davvero troppo a segnare è l'unico in grado di attaccare con pericolosità la profondità assieme alle mezzali e in più viene dal bel gol realizzato all'ultima di campionato contro la Lupa Roma servirà come il pane lì davanti affiancato da un attaccante mobile ed esperto magari come De Sousa i problemi maggiori ci sono in difesa dove mancherà Emanuele Pesoli almeno per l'andata intanto nella giornata di ieri è stato reso noto dalla Lega il direttore di gara di L'Aquila Rimini sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze cambiamo argomento questa mattina hanno fatto visita alla nostra redazione due classi terze della scuola media Giovanni XXIII di Pineto vedete la fotografia fuori la nostra sede i ragazzi hanno avuto modo di toccare con mano e conoscere in maniera approfondita tutte le fasi della produzione televisiva nell'ambito del progetto l'arte e la comunicazione portato avanti dalla regione Abruzzo in collaborazione con l'Agenzia per la promozione culturale di Atri e torniamo in conclusione alla notizia che abbiamo dato poc'anzi lutto nel mondo della politica perché è morto Marco Pannella leader storico dei radicali italiani terramano di nascita qui vedete le immagini del conferimento all'università di Teramo della laurea honoris causa il 23 di febbraio del 2015 ma pochi giorni fa il 12 maggio proprio il consiglio comunale di Teramo gli aveva conferito la cittadinanza onoraria con il sindaco Maurizio Brucchi che era andato il giorno successivo nella casa di Roma di Pannella a portargli le chiavi come simbolo proprio della cittadinanza onoraria conferita a Marco Pannella Pannella che è morto in una clinica romana dove era stato ricoverato ieri per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute l'annuncio è stato dato dalla radio del partito Radio Radicale che sempre ieri aveva diffuso la notizia del ricovero il leader dei radicali aveva da poco compiuto 86 anni e noi ci fermiamo qui per quanto riguarda l'edizione delle 14 del TG6 i prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione